Locali completamente rinnovati con una nuova gamma camera in grado di studiare la funzionalità degli organi, patologie cardiache, neurologiche, oncologiche, in maniera non invasiva, formulando diagnosi particolarmente accurate. E questa è la punta di diamante del nuovo reparto di medicina nucleare dell'ospedale Mazzini di Teramo, inaugurato dalla ASL Teramana questa mattina alla presenza dei vertici aziendali e del vescovo della diocesi teramana, Monsignor Lorenzo Leuzzi. La nuova medicina nucleare si è trasferita da poco tempo al piano seminterrato del primo lotto del nosocomio del capoluogo. La medicina nucleare meritava una location adeguata, questo è un primo passo, non è il passo definitivo, adesso però abbiamo un ambiente ospitale, abbiamo un'attrezzatura che è tecnologicamente all'avanguardia, è stato un impegno, non è facile lavorare in ospedali in esercizio che hanno poi anche una complessità di organizzazione proprio interna, però è stato importante, è importante dare alla collettività, che poi è il nostro desiderio finale, un servizio sempre migliore. Ricordo che su questo supplesso che vediamo oggi è in atto con la collaborazione di vari organismi della ASL una procedura per l'acquisizione di ulteriori attrezzature di PET che attualmente non sono presenti nell'ospedale di Teramo. La nostra speranza è che fra non molto arrivi anche la PET, io so che ci stanno lavorando e mi auguro veramente che questo diventi un servizio, un bel fiore all'occhiello per la ASL di Teramo.